ciao a tutti volevo presentarvi i nuovi panchetti exon il modello 20 e il modello 40 sono entrambe ideali per la pesca in canale o per la pesca nei laghetti hanno sei gambe telescopiche di diametro 36 sono molto compatti e funzionali su entrambi i modelli sull'ultima barra quella in posizione esterna della pedana è stato creato proprio dalla matrice un supporto dalla sensazione di sicurezza perché proprio uno riesce a percepire il limite e quindi anche di avere maggior stabilità se si deve alzare in piedi o se si deve muovere sul panchetto stesso inoltre questo piccolo dentino ti può essere utile per appoggiare la pianta del piede quando quando si pesca con la ruba sien sotto l'avambraccio magari per la pesca a galla nei laghetti o a cavedani lexon s20 praticamente è composto da questo blocco superiore di moduli che ha praticamente un vano posto sotto i cassetti frontali per il ricovero di lens oppure accessori e minuterie a due cassetti frontali ad estrazione frontale e con chiusura magnetica ed un vano posto sotto la seduta di 60 mm la seduta è comodamente imbottita e presenta una conchiglia porta rubasena nella posizione frontale la pedana rientra dentro una guida fatta sul telaio stesso e le misure sono davvero contenute si parla di 63 cm per 73 livelli laterali per un miglior posizionamento insieme a quella frontale ed anche il rialzo della bandina posteriore che garantisce di non far scivolare qualsiasi cosa venga appoggiata su questo piano durante il trasporto completano l'equipaggiamento di questo paniere il piedino di tipo orientabile per aderire perfettamente su qualsiasi tipo di superficie anche il panchetto exon s20 è dotato della sede per posizionare la maniglia per il traino sotto la pedana e in posizione laterale ci sono gli alloggi porta ruote per trasportare il paniere nelle vostre sessioni di pesca parliamo adesso dell'exon s40 l'exon s40 praticamente la seduta è di tipo imbottita ergonomica nella posizione centrale c'è lo spazio adibito all'alloggio porta rubasien al di sotto della seduta abbiamo un vano porta accessori di 40 mm poi la novità su questo paniere è il cassetto a estrazione laterale eccolo qui ideale per trasportare le lenze o comunque qualsiasi tipo di minuteria al di sotto della cassetto laterale ci sono due cassetti a distrazione frontale con chiusura magnetica al di sotto di essi si trova un vano porta accessorio porta lense da 50 mm questo paniere completato da una pedana che scorre all'interno della struttura stessa della del paniere e di piedi sono di tipo regolabile per garantire un'ottima presa su qualsiasi tipo di superficie viene equipaggiato con tre livelle due laterali e una frontale per un corretto posizionamento su qualsiasi tipo di terreno la bandina è stata piegata ed è stato creato una specie di dente più alto rispetto al piano quando si vuol trasportare magari degli oggetti ed offrire uno staolo per non farli fuoriuscire sulla parte posteriore anche il paniere exon s40 è munito di alloggi porta ruote laterali e dell'alloggio posto sotto la pedana frontale porta a chi traiono per il manico